Proteggete le bombe. EDD montato, non avvicinatevi. Gioco l'asso nella marica. EDD attivo, stati alla larga. Ora del diversivo. Dispositivo innescato, sentite d'occhio la porta. Posizione bomba compromessa, regolarsi di conseguenza. Rimangono 10 secondi. La squadra d'attacco ha trovato una bomba, preparare le difese. Siamo a 5 secondi. Imboscata pronta, state all'attacco. Modiglio, non sapete trappola. Bomba localizzata. Siamo pronti. Banshi piazzata. Piazzamento. O pensata. Piazz O pensata. Sì Grazie a tutti Ultimo attaccante rimasto in vita Lui ce l'ha? Chi è esse? Ah questo è esse ok Eh non lo riconoscevo Un operatore alleato rimasto Ucciso tutti da quattro È stato bellissimo Non ce l'aspettava nessuno Non ce l'aspettava nessuno